Eccolo il vincitore del Buegrasso 2015, che fosse tra i favoriti lo si era capito già dall'interesse che aveva suscitato nei visitatori durante le ore precedenti alla premiazione. Per il proprietario, Daniele Botter di Maser, sei partecipazioni e quattro vittorie alla Fiera Franca, una piacevole conferma. Era il toro da tenere così, anche per la soddisfazione di vederlo tutti i giorni. Quanto pesa, quanti anni ha, da dove viene? Questo qua è un incrocio francese, ha circa due anni di vita. Quanto pesa? Pesa 10 quintali. Quanto mangia? Ma adesso non so, decifrare bene, comunque mangia una ventina di chili di razione, diciamo, tra foraggi e sfarinati. Ma la Fiera Franca diventa anche occasione per tastare il polso di un comparto che ha vissuto più di una difficoltà. Quest'anno noi registriamo, dopo molto tempo, un aumento delle aziende iscritte al premio, iscritte al concorso, e quindi finalmente quest'anno possiamo dire sì, c'è un aumento di interesse o comunque anche di aziende che investono su questo settore. Speriamo bene. Le scuole di Agraria sono cariche di ragazzi che ambiscono a questo lavoro. Sembra che un giovane su tre abbia l'intenzione di fare l'elevatore, quindi abbiamo buone prospettive.